Stavolta ho fatto in tempo, avete visto? Me lo sentivo che ci avrebbe mezzo più tempo, me lo sentivo Let's go Con lo scappo Sunfly, buonasera Fierio Buoricino per te, grazie Questo prezioso sub Purtroppo in questo periodo non sono tanto libero tra vari impegni Ma quando riesco recupero le live Tranquillo brother, grazie a me del sub Quando vuoi passare passa pure Ciao Frank, tutto bene Tutto bene Torema, stai duri, ventocato, usciti fino al 2010 Qui va back? Ok, allora non ci vado nemmeno io Vai Ari, let's go Mena sto scappato di casa Let's go Incredibile A parte che, cioè me l'ha sentivo che l'avrei ucciso anche da solo Perché comunque Gli ho doggiato la prima cuora, però lui c'ha il TP Io ho dovuto usare una pozione Però io c'ho ancora il TP, quindi penso andrò back A breve Tunk Inizia il fastidio Oh no, cos'è? Te la sei presa? Beccati questo Sborda Sborda Mena Mia, aspetta Ieri non sono passato Ma ho recuperato il WOD Spero di essere mancato Orca miseria aspetta che qua Si nasconde il ratto Tonk Ah non ho capito perché il bot sta leggendo due volte Le donation Ma è ok Se arriva al cinese ci fa male Allora sì però Se lasciamo la wave così ancora di più Quindi È un rischio che dobbiamo prendere Se c'è il cinese Moriamo Altrimenti niente Ci vediamo a un prossimo video Roar tigrotti Non c'è Bene Direi che questa è necessaria E Ci servirà tanto mana per fare il casino che dobbiamo fare Let's go Ok Fabri Grazie mille il sub Oddio Grazie mille Grazie mille caro Ah Frank Cosa mi hai scritto Adesso leggo Hai scritto Impressione che non sia iron Per il tank e nel bush No no Questo qua Quest'altro invece Cosa sta accadendo Cosa sta accadendo Disastro per il team nemico ragazzi Sembra l'Italia contro la Svizzera Disastro Disastro FF Perfetto Eh Non lo so Spero che non sia un game da sorrendere Dai che dobbiamo giocare la nostra Lilia Fastidiosa Tunk Inizia il proxy Allora andiamo back che abbiamo un ottimo recall grazie a questo Allora 0-3 Ione 0-1 eh 0-1 0-1 Siamo 6-0 ragazzi Inizia a diventare complesso per il team nemico Inizia a diventare complesso Marcos Caro Marcos Forse Oh Diana dai La prima kill La prima kill del loro team Se ti metto a cuccia io Tuk Tonk Trunk E niente Però dobbiamo proxare ragazzi Non è Non è leale così È ora di sloggiare dalla lane Che poi oltretutto gli facciamo un favore proxando Perché siamo noi i lane bulli adesso Quindi se Se ce ne andiamo dalla lane a farmare da un'altra parte Gli facciamo un favore Ma Chi se ne frega Eeeh Eeeh Niente È riuscito a passare la dogana Ora sono io la dogana ragazzi Sono io la guardia di frontiera Eeeh Ma scusami Ma da che distanza Ma da che distanza mi ha preso Diana Che era nel cespuglio Come ha fatto da arrivare qui In una frazione di seconda O O sbaglio io Mi so sbagliato io ragazzi Non lo so Ma è una È una normalissima Lilia Che spamma Ma Non è che proprio Non c'è proprio È una Lilia top Che dà fastidio Ma come ha fatto Scusami Ma come ha fatto da qui A dashare fino a qua Ma è un range così alto Il dash di Diana Chat Ora io non me ne intendo Ma ha un range così alto Di una venire da red No no Non si è vista qui Questo vuol prendere due belle mazzate Noi gli eletteriamo molto volentieri Gli eletteriamo molto volentieri Oh Oh Lei si deve calmare Gentilmente Ok 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 E Ora Ok L'avevo messo in posizione a pecorella Per poi finirlo In questo modo Molto bene ha funzionato Aiuto A me il ci Ah ma Diana non è il gi Quindi è venuto a aprire il midlader Lilia palia one shot Ma non fa così tanto danno questo Non penso però Quindi per me è arrivato il midlaner a prendere Mi pensavo fosse il jungler Infatti c'è ma chi è questo? Vabbè come al solito ragazzi Viene qualsiasi guardia di frontiera Per la top lane Sono Un soggetto troppo pericoloso Ma Aspetta Mi è venuto Ma non è che prima Quando ho visto qualcuno qua Era l'issin qua E Diana è arrivata da un'altra parte Allora se è così Ho bocellato Ma voi avete bocellato più di me Perché state guardando in centinaia di persone Se è così Dovete mettervi un paio di occhiali ragazzi Se è successo questo Perché nessuno mi ha detto questa cosa Perché mi è venuto il dubbio E un po' di danni li hai presi Era proprio di Allora non sapevo mai la verità Ok guardate qua Il cooldown redaction inizia a farsi sentire Palla Strike Strike È stato molto divertente Tanto il team nemico sono tutti morti No non voglio andare back Bisogna continuare il fastidio Prendiamo un'altra plate Scopriamo se Ione sta arrivando Non lo sapremo mai Ancora Ancora Anno Lenzo ha fatto Diana è l'unica affidata del loro team Che due palle sta tizia Mi sta già sulle palle È andato mid Vabbè Allora sei un bel cosmi Sei un po' di moving speed Letteralmente No Diana ha due kill Sulle mie tre morti Una ce l'ha al cinese Ciao metalollo Ora vediamo Ora scontro ad armi pari Ora scontro ad armi pari Ah sì sì Ah tu mi ulti Anch'io ti ulto Ecco qua Ah ma hai perso Ma pensa te Quando fightiamo Che entrambe Siamo full vita Vinco io Ma pensa un po' Avete visto lo scontro ad armi pari Ragazzi Così si fa Torre presa Torre presa Posso dire che Don mi lamento Cioè non so come L'abbia shottato Ma l'ho shottato Sto tizio Ottimo Molto bene Metalollo Sai cosa sto pensando Stavo pensando Cazzo è tanto Che non gioco Mordecaiser Meno male Il game prima C'era un Mordecaiser Ovviamente ha fatto Un disastro Insieme a noi Per fortuna Quanto abbiamo A Q? Due secondi e ventinove Molto bene Forse il presence of mind Era un po' Overkill Considerando tutto Il mana che sto buildando E il cosmic C'ho i soldi adesso Ma Mi sono arrivati adesso I soldi Ma è tornato Il mio amico E' lui E' lui E' lui E' lui Lui Chi sta arrivando Diana Alissino Entrambi Chi arriva adesso Mostratevi in faccia Se avete il coraggio Non si mostra nessuno Non hanno chiaramente Le palle Tunk Tunk Ok Ok Siamo back C'è il cosmic Tunk Tunk Manco a fa così Oh E si deve calmare Ok andiamo back qua Non ho usato La ultima Ho rischiato Andiamo a prendere Il cosmic Mi fai questo qua Mi da altra Movement speed Oh ma perché Oh ma sono in base Ma voi siete matti PUNK PUNK Oh Dio Meno male che Non c'è momento Loro oggi Con il bot Che legge messaggio Due volte Con Caffa Sarebbe la fine Meno male Che non c'è Caffa Meno male Però se ci fosse Caffa Farebbe ridere Ma a volte E' meglio Che non ci sia TUNK Sai già cosa sta per succederti Lo sapeva già Oggi il bot ha deciso che legge due volte i messaggi Quindi se volete donare bizzo o abbonarvi Oggi vale doppio Perché il bot leggerà il vostro messaggio due volte apparentemente Icicicicicicicicicicicicic Ehi Bobby, vacci piano Non è carino fare queste cose Cazzo, io non ho preso il Mejjay Avrebbe anche il mio oggetto a picche da Moe in Speed Ecco perché non l'ho preso Via! I'm too fast for polizia Vai vai, disrespetto Mi metto a togliere completamente la control Guarda Ezreal che mi insegue Guarda Ezreal Scappiamo! La polizia ci ha trovati! Sei rotto i maroni Tieni Si impari Continua ad inseguirmi Vai, vieni, vieni Vai su TikTok Che ti sei il telly Fallo tu Come ti permetti Come ti permetti Vai prendo il Mejjay intero Me la sento Per la movement speed Lissin, vieni che mi servono delle stack Dove sei? Eri qua, lo so che sei qua Sparito Maledizione Vesse la ult Miau Fai il cazzo che ti pare Shotami Cioè va bene Piggio due tasti Fammi sparire la barra degli HP Non lo so Va bene Ok, non ho sicuramente una build ottimale ragazzi Però vabbè Allora Il lato positivo è che ho zero stack di Mejjay Quindi Non mi sento In colpa Però Cioè è veramente Ma è me e Diana ragazzi Sono anni e anni e anni Che lo dico Che Diana è così Una Nintendo Switch Con lo scappo Bocelli Grazie Vieni 23 mesi Bentornato Bocellone Come stai Dobbiamo correre velocemente in top lane qua Se no Vediamo un po' la mia palla dove va Esattamente dove ho mirato Che ha preso un po' di movement speed La palla Niente Vieni Mi servono le stack Dio Leggermente veloci 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 Trash champ Confermo Ma mi serve almeno una kill e un assist E sono felice Non voglio full stacker il Mejjay Mi basta tranquillamente avere la movement speed Ma potevate lasciarmi una kill Sono ancora 8 No no Lei mi toglie tu Aiuto Ok Uccidete la pure Ok Ok C'ho la movement speed ragazzi Ora sono contento Trattoriglia Allora adesso 460 movement speed Senza Senza passiva Ah quanto cazzo corro Il treno Il treno regionale Il treno regionale Tonk Tonk Fulmine Si corre Mamma mia 618 movement speed Sono veloce Sono veloce L'hai fatto Si corre Oh oh Si corre Si co Aiuto Cinese Porca miseria La ulti di Ezreal Mi è arrivata addosso Ho combattuto contro tutti Meno male che il support Sta supportando La di Kerry Nel quasi prendere la torre Ce l'hanno fatta Meno male Avete visto Ah la Lisbon fa cagare Però ci dà movement speed Non mi sa che mi prendo la cage E' stata buonanotte Sti cazzi No ho troppo Cris e Zena Sai che non lo so Forse un po' di più Jin Non lo so Sincero Non lo so Se la mamma di Bambi Si fosse buildata così Sarebbe ancora viva Una teoria interessante Lo ammetto Non ha provato neanche A slugarmi Così proprio Presa Ma se la cessi così Questi sono dei bei dannetti Vuoi o non vuoi Sono dei bei dannetti questi Preso 720 movement speed Inoltrezza Non hai Sono leggermente veloce ragazzi Leggermente veloce Ma leggermente Sadaz 94 Cirt Dix 104 Grande Rick Continua così Convinci questi Iron a spostarsi su Fortnite Sadaz 94 Cirt Dix 104 Grande Rick Continua così Convinci questi Iron a spostarsi su Fortnite Brrrrrr 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 Aiuto Brrrrrr Comunque si c'ha un range infinito il Dash Diana Senza senso Grazie Sadaz dei Beats Spero comunque di aver portato onore alla tua Lilia Spero sia stata di tuo gardimento A me è divertito molto No non puoi L'RDB Perché intanto non sei così tanto veloce E comunque tu devi continuare a hittare E se tu scappi La moving speed la perdi Perché perdi le stack di passiva Giuro Non c'è niente più attraente di una persona Che sa giocare bene a Lolla Uh Attraente Dai diamo l'onore a bo Chi ha fatto cosa in queste partite Io non ho visto nessuno È stato per i cazzi miei Trattoli Trattoril Trattorilia Trattorilia ragazzi 46.000 danni Ottimo Bene Prossimo game Allora ciao